Stasera devo andare a fare salata con le mie bebe Mentre oggi sul tardo pomeriggio devo vedere delle persone e fare delle commissioni Comunque se mi vedete tipo con un po' di occhiaie Perché ieri sera ho passato tutto quanto la notte a vedermi Barbie la principessa la povera Perché oggi ero indeciso se fare total pink oppure total blue Ma siccome io amo tantissimo il rosa ho deciso di tenerlo per un altro giorno A proposito di rosa, vi piacciono le unghiette nuove? Qua in questo momento mancano le farfalle ma sono a calamita e le metto quando esco Ieri ho letto un commento che diceva come fa ad avere così buon gusto E beh io sono cresciuto con le Barbie, con le Bratz, con le Winx Cioè avete mai visto una di questi vestite male? Io penso che se tu da piccola eri veramente fan di uno di questi cartoni non puoi vestirti male Un'occhia applico del bianco E col dito al centro dei brillantini azzurri Ora passiamo alla base E a sto giro facciamo ne troppo pesante ma neanche troppo leggera Quindi una via di mezzo Comunque sono curiosissima di sapere voi che Winx era base da piccolini Devo vedere anche chi indovina la mia preferita Ovviamente non è te